ciao a tutti e benvenuti a questo video nel quale parliamo del mito greco legato alla luna piena nel segno del leone come sto facendo già da un po cerco di spiegare quelli che sono i simboli legati ad una specifica fase lunare in uno specifico segno zodiacale che tendenzialmente si ripete uguale a se stesso nella fase ma non nel cielo circostante una volta all'anno perché è chiaro che ogni anno più o meno di questo periodo abbiamo la luna piena nel segno del leone perché si oppone ad un sole che sta già nel segno dell'acquario bene ogni anno però il sole intorno cambia questo video però vuole raccontare vuole legare a questa fase lunare specifica che quindi si ripete una volta all'anno un mito greco perché perché i miti greci spessissimo vanno a raccontare un archetipo esattamente come fanno i simboli astrologici quindi mettendo insieme questi due aspetti noi abbiamo la possibilità proprio di comprendere meglio l'uno e l'altro il mito greco che leggo alla fase lunare della luna piena il leone è il mito di Pasifae Pasifae se avete letto il libro Circe che è un romanzo meraviglioso avrete incontrato questo personaggio Pasifae la sorella di Circe Pasifae è sorella bellissima di Circe una dea una dea quindi figlia del sole il leone è il segno zodiacale che l'astrologia lega proprio al sole infatti è un segno zodiacale famoso per essere un segno egoriferito forte potente intorno al sole tutti ruotano ciascun segno zodiacale legato cioè governato da un pianeta che gli dà le caratteristiche chiaramente il leone è l'unico segno zodiacale che è dominato da una stella ovvero appunto il sole e che stella cioè quella stella attorno alla quale tutti giriamo senza la quale noi non esisteremo per cui è chiaro che già questo ci dà un'idea importantissima di quello che è il leone come segno zodiacale chiaro che tutto questo potere solare contrasta un pochino con la fase lunare perché noi stiamo parlando di una luna che si trova nel segno del leone il sole è all'opposto nel segno dell'acquario quindi è chiaro che in questa fase lunare si intersecano i valori lunari la fase della luna piena quindi l'esplosione dell'io del del subconscio delle emozioni dei sentimenti dell'istinto e il sole che inevitabilmente dona le sue caratteristiche al leone quindi questi tre elementi si intersecano creando qualcosa di veramente esplosivo torniamo al mito di pasifa e pasifa e nasce una famiglia piuttosto numerosa elios aveva un sacco di figli e tra i quali appunto pasifa è bellissima meravigliosa per un destino della sorte viene data in sposa a uno un po buzzurro un po becero mirò minosse re di creta minosse è umano ed è un umano proprio un po volgarotto per capirci di contro pasifa e è bellissima anche lei una maga come tutti i suoi fratelli molto meno capace di usare le sue arti magiche perché perché pasifa e differenza di circe si guarda molto meno dentro è molto più travolta coinvolta da tutto quello che è il suo enorme desiderio pasifa è l'incarnazione del desiderio quello proprio che non si può trattenere quello viscerale quello potente quello travolgente ma è un desiderio totalmente egoriferito ora badiamo a una cosa primo il mito non giudica mai anzi il mito va a raccontare quella che è una una modalità del nostro sentire tipica archetipica perché ce l'abbiamo tutti della quale spesso ci vergogniamo quindi che zittiamo mettendola proprio giù in cantina e schiacciandola bene come quando cerchiamo di mettere la tuta da sci che non ci sta mai quindi è chiaro che queste queste affermazioni anche un po forti che faccio vanno a disegnare una parte del nostro inconscio che è particolarmente potente e spesso appunto viene eliminato non c'è giudizio in questo ma è vero che pasifa è proprio l'emblema di quello che è il grande desiderio che non ha nessuna intenzione di guardare all'esterno tanto è che anche quando pasifa e si fa aiutare da dedalo prima dalla sorella circe poi durante il parto di 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 minotauro ma questo lo diciamo dopo è un personaggio che va alla ricerca costante del suo bisogno della soddisfazione del suo bisogno l'egoismo è spesso sano i martiri non fanno bene né a se stessi né a chi li circonda ve lo dice una che da martire la fa da un pezzo quindi pasifa e cosa fa sta in questo regno bellissimo meraviglioso super prospero di minosse però con minosse che chiaramente non la soddisfa lui riconosce la sua bellezza ma lei ritiene che lui non si ha la sua altezza in effetti è vero lei è una dea lui no quindi cosa succede quando arriva il famoso toro bianco che poseidone aveva mandato a minosse lui a minosse aveva chiesto a poseidone di avere un gesto di avere un simbolo che gli confermasse che lui era fatto per governare questo paese meraviglioso poseidone gli manda un toro fantastico un toro bianco tutti impazziscono per questo toro bianco che esce dall'acqua meraviglioso possente fisico il toro è il simbolo a di venere b del potere di venere della parte più carnale di venere carnosa potente ecco pasifa e sbiella da di matto deve farsi il toro cioè non ce n'è lei se ne frega dei figli della povera ariana di quello che può succedere dopo di minosse ne fregava niente neanche prima figuriamoci non gliene frega niente lei ha bisogno di raggiungere soddisfare questo desiderio ma visto che pasifa è una donna fortunata e anche leone è spesso fortunato e soprattutto una donna che non ha paura di rischiare e in questo è esattamente la luna piena il leone il rischio vissuto come qualcosa di inevitabile al quale non si può sfuggire perché c'è bisogno di soddisfare di sfamare di setare questo bisogno potentissimo ecco cosa succede arriva nel regno dedalo dedalo l'architetto più ingegnoso arriva perché in realtà era stato cacciato da atene visto che aveva ucciso il nipote forse perché era più bravo di lui e lui era geloso forse perché il nipote aveva compiuto qualche nefandezza lui voleva preservare la sorella chi lo sa sa di fatto che insomma dedalo che sta tutti simpaticissimo comunque arriva a da minosse a creta e minosse gli dice certo ci mancherebbe stai qua con noi figurati mi casa è stu casa fantastico quindi dedalo capisce subito appena vede pasifai che qui sarebbero volate delle sole perché poi dedalo bravissimo messi a mettersi nei casini e questa storia del labirinto probabilmente ce l'aveva già dentro insomma sta di fatto che pasifai dopo averlo visto lo chiama in solitaria e gli dice che ha proprio bisogno del suo aiuto ingegnoso perché lei come come non è si inventi quello che vuole ma lei deve accoppiarsi col toro ora pure dedalo che voglio dire bazzicando l'olimpo era abituato a queste stranezze era rimane cioè travolto sconvolto perché questo desiderio è talmente fuori dall'umano che è difficile anche da dire ad alta voce una donna una dea che vuole ha bisogno di accoppiarsi con un toro cioè il massimo del piacere il massimo del rischio il massimo del desiderio incontenibile pasifai non vede non sente più niente più nessuno questo è il suo bisogno questo è il suo desiderio fisico carnale lo deve ottenere quindi il povero dedalo si mette al lavoro costruisce una mucca tra l'altro fatta da dio la mucca è perché sopra gli mette una pelle di mucca per far sì che il toro senta l'odore della mucca non di pasifai che saprà di gelsomino gli mette le rotelle per muoversi sul coperte dagli zocoli insomma un'arte ingegneristica pazzesca e la fa cava cava e quindi cosa succede che pasifai può entrare fisicamente nella mucca pasifai era una dea si va a infilare dentro una mucca praticamente costruita nel legno un poco norido umido pensate che caldo lì dentro insomma sta di fatto che lei pur di soddisfare il suo desiderio si infila nella mucca e il si infila nella mucca e quindi anche in pasifai detto questo pasifai non capisce più niente il punto è che va bene che sei una dea va bene che le cose ti vanno sempre bene meglio della sola la circe che tra l'altro era stata infilata là da sua tutto un casino insomma però ogni tanto qualche sfiga capita anche a te perché pasifai rimane incinta e di chi rimane incinta del minotauro mezzo uomo e mezzo toro il minotauro mostruoso non riesce ad uscire dal suo ventre tremenda questa cosa pasifai ha bisogno di farsi aiutare dalla sorella circe perché deve partorire questo minotauro l'ha fatta più grossa il la pasifai l'ha fatta troppo grossa e l'ha fatta così grossa da essere evidente sotto gli occhi di tutti ma pasifai continua a fregarsene perché lei aveva questo bisogno travolgente questo bisogno potentissimo e così è proprio il leone leone simbolo del cuore il cuore è il re di tutto il nostro corpo certo che anche le altre parti sono importanti ma con noi come facciamo a dire che una persona è morta non è che gli si è fermato il fegato oppure il sangue ha smesso di scorrere smette di battere il cuore quindi il cuore identificato come la parte il re del nostro corpo il re della nostra vita batte lo si sente si fa sentire ok allo stesso modo pasifai con i suoi bisogni e coi suoi desideri allo stesso modo la luna piena nel segno del leone in questa luna piena trattenere quello che è l'ego è difficilissimo è vero che noi abbiamo assolutamente bisogno di comprendere quali siano i nostri bisogni egoici perché poi possiamo decidere di plasmarli di moderarli di arrivare a dei compromessi certo questo è importante ma noi dobbiamo assolutamente conoscere questi bisogni e conoscerli con un'altissima parte di egoismo cioè dobbiamo avere il coraggio egoista di tirare fuori quelli che sono i nostri bisogni dirgli ad alta voce e in questa luna piena sicuramente ce la faremo quindi è la luna piena dell'apertura tutti i sensi pasifai sarà aperto pure troppo ecco dell'apertura il leone è un segno zodiacale fiero solare a testa alta pasifai anche quando tutto il regno vede che inevitabilmente ha fatto qualcosa che non si doveva fare insomma perché il figlio è evidentemente mezzo toro e mezzo umano tra l'altro poi lo chiama pure minosse capito cioè doppia presa per il culo lo chiama pure minosse scusatemi lo chiama pure minotauro come minosse doppia presa per il culo quindi insomma questo per dire che la luna piena in leone è l'apertura totale l'espressione totale l'io che ha sempre meno riesce a trattenersi sempre di più ha bisogno di dire quello che pensa quello che prova i suoi bisogni più profondi detto questo mi sembra chiarissimo godetevi questa luna in toro ovviamente anche eroticamente parlando noi ci vediamo come sempre al video per la prossima luna nuova che sarà potentissima luna nuova in acquario che dà sempre il via anche all'anno cinese ciao